GF VIP7, Pierpaolo Pretelli e la crisi con Salemi, ecco perché abbiamo scelto di condividerlo pubblicamente. Dopo pochi istanti dall'inizio della trentatreesima puntata del Grande Fratello VIP7, andata in onda nella notte di San Valentino, la bastardina col tablet Giulia Salemi ha lanciato uno scoop piuttosto triste. Chiamata dalla sua postazione sociale al centro dello studio, l'influencer ha confessato al conduttore Alfonso Signorini, e dai telespettatori, che la sua relazione con Pierpaolo Pretelli sta attraversando un periodo di crisi. Voglio essere sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent'anni, ha detto Giulia, sottolineando. La coppia, come noto, si è formata proprio al Grande Fratello, quando i due erano entrati nella casa più spiata d'Italia come concorrenti della quinta edizione. Proprio per questo motivo, la Salemi ha voluto specificare, siamo una coppia nata sotto le telecamere quindi è difficile chiedere di rispettare la privacy. Però mi auguro che questa cosa accada. Alle parole di Giulia sono seguite quelle di Pierpaolo, che le ha ascoltate in diretta in quanto co-conduttore. Insieme a Soleil Sorge, del GFV Party. Lo Schumann ha replicato. Poco fa Pierpaolo ha pubblicato un messaggio su Twitter spiegando le ragioni che li hanno spinti a parlare pubblicamente della vicenda. Poco fa Pierpaolo ha pubblicato un messaggio su Twitter spiegando le ragioni che li hanno a fiu stapani, pe ce fac si ce spun, stii, nimic nu mai e la fel, pupilaria s-a maturizat sever. S-a luvit pana acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, enti pur de caracteri. Voi ved cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar...